Il forno fusorio di Taverno le ha ospitato nei giorni scorsi la premiazione del concorso fotografico 100 passi verso l'altissimo che ha visto la partecipazione di 77 concorrenti per una totale di 242 foto di cui 45 selezionate. Il concorso è stato promosso dall'associazione il Redentore in collaborazione con Fotoclub Lumezzane. Presenti alla premiazione il sindaco di Taverno le Gerardo Ferri, l'assessore alla cultura della comunità montana di Valle Trompia Yvonne Valcamonico, alpinisti e fotografi di fama come Franco Solina, Silvio Mondinelli ed Alessandro Bazzana. L'evento è stato patrocinato dalla comunità montana di Valle Trompia e da quella del Sebino, dai comuni di Gardone Valtrompia, Tavernole e Zone e dall'Aido. La serata pienamente riuscita e partecipata è stata allietata delle canzoni del coro di Inzino.